Domani una nuova allerta meteo per le province di Pesaro e Ancona, scuole chiuse ad Ancona e Senigallia. 28enne sorpreso a scavare nell'area archeologica di Fossombrone, rubando decine di reperti. Nuovo ospedale a muraglia per il cantiere, la regione aspetta il semaforo verde dal ministero. Arte terapeutica nel reparto di pediatria ridipinto a misura di bambino. Pesaro ricorda l'opera di padre Damiani attraverso le testimonianze dei suoi alunni. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Rossini News. Oggi è mercoledì 2 ottobre e apriamo questa edizione con la situazione meteorologica nella nostra regione perché la protezione civile ha emanato una nuova allerta meteo di livello arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle province di Pesaro Urbino e Dancona per tutta la giornata di domani, mercoledì 3 ottobre. Protezione civile che invita a prestare massima attenzione perché saranno previste precipitazioni diffuse e persistenti che, considerate le condizioni del suolo dopo i precedenti eventi di settembre, potranno comportare innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua e il rischio di frane. Un'allerta che ha già portato alla chiusura preventiva di tutte le scuole di ogni ordine e grado ad Ancona e Senigallia. Ed ora ci occupiamo di un fatto di cronaca davvero particolare avvenuto a Fossombrone dove un uomo è stato sorpreso a scavare con tanto di metal detector nel parco archeologico Forum Semproni rubando decine di reperti, materiale che è stato poi recuperato dai carabinieri. Improvvisava più volte ricerche archeologiche illecite e non autorizzate e si impossessava di reperti che poi si portava a casa. E quanto appurato nel pomeriggio di lunedì nell'area archeologica di Forum Semproni dove i carabinieri di Fossombrone e il nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona hanno sorpreso un ventottenne del posto intento a svolgere attività illegali di ricerca e in possessamento di beni culturali con l'ausilio di metal detector e altri specifici strumenti per la ricerca di metalli in un'area archeologica dichiarata protetta. Insospettiti dalla presenza dell'uomo in quella zona i militari dell'arma hanno infatti subito proceduto ad un controllo e hanno rinvenuto nella disponibilità del ventottenne numerose monete e altri frammenti in metallo e ceramica. Altri beni dello stesso tipo sono stati poi trovati anche nell'abitazione dell'uomo verosimilmente frutto di altre analoghe battute di ricerca. Tutti i beni archeologici recuperati dai carabinieri sono stati posti sotto sequestro insieme agli strumenti utilizzati dall'indagato per individuarli e scavare. Il ventottenne è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Urbino e ora dovrà rispondere di ricerche archeologiche non autorizzate, furto di beni culturali nonché distruzione di beni culturali. Non solo, in virtù della recente normativa, l'uomo rischia una pesante sanzione amministrativa per aver distrutto con la sua attività di scafo la stratigrafia in cui giacevano i beni archeologici. Ed ora andiamo a parlare del nuovo ospedale di Pesaro da realizzare nel quartiere di Muraglia per il quale è stato previsto l'inizio dei lavori entro il 2024. Ci sono però alcune variabili che rischiano di rallentare la partenza di questa grande opera. Vediamo il servizio. Il nuovo ospedale di Pesaro da realizzare a Muraglia torna sul tavolo del Consiglio regionale. A rinnovare la questione, il gruppo consigliare del Partito Democratico sull'onda di un'iniziale previsione di inizio lavori indicata nel cronoprogramma entro la fine di dicembre per poi terminare l'opera tre anni dopo. Rispondendo all'interrogazione in merito, l'assessore regionale con delega all'edilizio ospedaliera Francesco Baldelli ha relazionato su una situazione che attende due esiti per essere messa in moto. In primis quella delle parere favorevole del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Sanità, al quale la Regione ha inviato tutta la documentazione del progetto da 204 milioni di euro per 382 posti letto. A rallentare la questione c'è però anche un ricorso al TAR del gruppo secondo classificato nella gara per la progettazione. Una procedura che di fatto è già stata aggiudicata in estate ad un raggruppamento di professionisti composta dallo studio Paci Beta di Pesaro da SD Partner, Politecna Europa, Architetto Piscitelli Associati, Adarte e AgroService. La Regione Marche è quindi pronta a procedere con l'avvio delle lavorazioni e attende soltanto l'esito previsto nei prossimi giorni del ricorso davanti al Tribunale Amministrativo promosso dal secondo classificato verso la procedura di gara della stazione appaltante. Si procederà quindi con la demolizione e l'avvio della realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro che visto il sito prescelto verranno gestite in maniera parallela e concomitante. Quindi siamo pronti a dare avvio alla realizzazione non appena ovviamente avremo la decisione del Tribunale Amministrativo sui primi due che hanno vinto la gara e hanno presentato un ricorso. Grazie. Scetticismo da parte del Partito Democratico per un progetto reputato ancora ben lontano dal vedere la luce. Come farete allora a procedere alla demolizione, a procedere alla ricostruzione su tutto il terreno in cui si è ricavato lo spazio necessario entro il 31 dicembre 2024? Sembra veramente impossibile, a volte nemmeno per costruire una casa si riesce a fare tutto ciò in due mesi. Se figuriamoci per un ospedale forse sarebbe giusto iniziare a dire che siamo molto in ritardo, non leggermente. Questo mi fa dedurre che si naviga a vista, che non sono stati rispettati i tempi del cronoprogramma iniziale. Purtroppo io non vi ho imputo colpe ma bisogna anche prendere atto che sull'ospedale di Pesaro ancora siamo in alto mare, non ci sono altre deduzioni. E in riferimento all'ospedale di Muraglia c'è chi ci segnala una situazione sempre più complicata per quanto riguarda le buche sulle strade all'interno dell'area parcheggio dello stesso nosocomio, come potete vedere da queste immagini. Proprio oggi il Comune di Pesaro ha ufficializzato l'avvio degli ultimi lavori di asfaltatura di questo 2024 per i quali sono stati investiti 600 mila euro. Si asfalteranno via Bonini, strada di Fonte Secco tra Villa Fastigi e Villa Ceccolini, tratti di via Milano, di via Gagari, di via Giolitti e di strada del Foglia. Secondo il Sindaco Biancani si tratta di strade che rappresentano la priorità in termini di urgenza, di manutenzione e sicurezza. Mentre per quanto riguarda gli interventi del 2025 sarà a breve avviato un confronto con i quartieri per capire gli interventi prioritari da inserire nel bilancio di previsione che sarà approvato a dicembre. Dall'ospedale di Muraglia passiamo a quello del San Salvatore di Pesaro, il cui reparto di pediatria è sempre più a misura di bambino, grazie ad alcuni interventi promossi dall'Associazione Abio. Dopo il periodo pandemico che aveva sottratto i colori al reparto pediatrico pesarese, ora quest'ultimo torna ad essere animato, grazie al progetto sostenuto da Abio Pesaro, che ha visto oltre 20 opere di Sally Galotti, autrice anche di Walt Disney, andare a colorare l'intero reparto, da opere nei corridoi a quelle sui soffitti, affinché i bambini, con lo sguardo rivolto verso l'alto durante un intervento, possano distrarsi e divertirsi con le figure animate. Questo è uno dei 27 pannelli che sono stati applicati in tutto il reparto e oltre a questi 27 pannelli ci sono anche una serie di controsoffitti, tutti realizzati ovviamente in materiale atossico, in materiale antibatterico, e che servono per cercare di rendere questo reparto finalmente, nuovamente, un reparto pediatrico, perché sapete questo reparto è stato chiuso per tre anni e qui dentro c'erano i pazienti covid, i pazienti adulti, quindi avevamo bisogno di ricreare un ambiente che fosse più a misura di bambino. Un ambiente a misura di bambino che ci serve per tante cose, perché i bambini stanno meglio se naturalmente sono in un luogo che gli crea maggiore serenità, maggiore armonia e tutto questo stimola la fantasia, stimola l'immaginazione, ma per noi è importantissimo perché anche creare quella sorta di alleanza terapeutica che c'è tra i bambini, i genitori e gli stessi operatori sanitari, rende il nostro lavoro molto più fluido, molto più piacevole ed efficace, ma soprattutto crea meno problemi in quello che è l'ansia, la paura, l'angoscia legata al ricovero e quindi anche un po' quello che è il trauma del ricovero. Quindi questa è una stimolazione sensoriale, a tutti gli effetti, una stimolazione sensoriale positiva che fa sì che tutto quello che è anche terapia venga accettato meglio e si è visto anche da studi internazionali proprio che tutto questo favorisce l'efficacia delle terapie stesse. In ciascuno di questi pannelli qua poi ci sono tutta una serie di particolari, tutta una serie di storie che sono tutte diverse l'una dagli altri e ciascuno di questi pannelli contiene proprio un racconto che può essere anche scaricato, se guardate dopo vi faccio vedere, qua c'è un QR code che corrisponde praticamente ad ogni pannello. Il dottor Tartagni ringrazia poi Abio e l'autrice per l'immenso regalo fatto al reparto, ribadendo come quei lavori siano di immenso aiuto per i bambini ma anche per il lavoro degli stessi medici. L'autrice infatti, le cui opere sono presenti anche in altri ospedali, non è stata scelta a caso. Felli Galotti è stata selezionata da noi proprio perché oltre a questa esperienza molto ampia e molto performante per la realizzazione di questi pannelli, cumula in sé anche una specializzazione perché collabora con l'Università Alma Mater di Bologna per vedere e valutare quali sono proprio sia graficamente che per le dimensioni che in generale quali sono i moduli più adatti per poter realizzare questa umanizzazione pittorica. Cioè aggiunge un'esperienza anche, voglio dire, universitaria e quindi specifica rispetto a quella di cartonista della Walt Disney, tra l'altro si vede che questi pannelli recano immagini che sono assimilabili a quelli di cartoni già noti, ma ripeto, aggiunge lei qualcosa in più perché collabora con l'Alma Mater Studi di Bologna proprio per la valutazione sotto il profilo psicologico di che cosa è meglio e come realizzare questa umanizzazione pittorica. E proseguono i cantieri anche di Marche Multiservizi finanziati con 27 milioni, di cui 20 con i fondi PNRR destinati all'ammodernamento della rete idrica della provincia. Dopo le avviate opere di rifacimento delle condutture, sono partiti a Gavicemare anche i primi cantieri di distrettualizzazione della rete idrica per i quali Marche Multiservizi ha stanziato complessivamente 4 milioni e 600 mila euro. Si tratta di interventi che prevedono l'installazione di misuratori di portata che consentiranno di mantenere costante la pressione, migliorando la resilienza della condotta, riducendo le rotture o rendendo più facile l'individuazione di eventuali perdite. Pesaro è pronta a commemorare padre Damiani, figura storica per la città e per la comunità istriana che Pesaro ha ospitato attraverso la sua opera. Un'opera che sarà ricordata attraverso le testimonianze dei suoi ex allievi. 16 ottobre 1946, questo è il giorno in cui nasce la casa di padre Damiani, un posto dove stare, ma soprattutto una famiglia, per gli orfani istriani dell'epoca e per tutti coloro che ne avevano bisogno. Una risposta, una storia, un futuro, proprio come il titolo dell'evento in suo ricordo che si terrà il 12 ottobre al teatro sperimentale e il 13 alla cattedrale, il tutto a 78 anni dalla fondazione della casa e dove per l'occasione sarà presente il sindaco di Trieste e di Gorizia e alcuni suoi ex allunni affinché la storia e il ricordo vivano nelle testimonianze del presente. È una figura pesarese molto importante ma forse un po' dimenticata ed è anche il senso di questo evento, far riscoprire questa figura. Certo sì, lo Spirito Santo si è abbastanza divertito perché lui nasce nel 1910 da due genitori direi veramente anticattolici che proprio come offesa alla Chiesa Cattolica lo chiamano Calvino e chiamarlo Calvino nel 1910 voleva dire proprio sotto l'ideare uno dei massimi artefici della riforma protestante, di quelli duri e puri. Poi le vie di Dio sono molto fantasiose e lui in realtà viene cresciuto dalla nonna la quale invece è molto religiosa a differenza dei suoi genitori quindi lui viene alla fine educato religiosamente, decide di farsi prete e cambia il suo nome appunto perché Calvino non faceva per un sacerdote e prende il nome di Pietro. Quindi come dire, lo Spirito Santo si è un po' vendicato tra virgolette facendo di quest'uomo un grande sacerdote e un grande padre per tanti ragazzi. Il sabato 12 ci sarà il momento laico di ricordo e di commemorazione e il giorno dopo, la domenica, invece religiosa perché ci sarà la celebrazione ufficiata dal nostro arcivescovo alle 11.30 in cattedrale. Perché facciamo questo evento? Sicuramente c'è una data, il 16 ottobre del 1946 ma soprattutto vorremmo far conoscere alla Pesaro di oggi quelle che sono state le opere di bene compiute dalla Pesaro di allora grazie alla presenza di un sacerdote come il padre Damiani come sacerdote meglio noto come Don Pietro Damiani che a suo tempo nel 1945 sentì questa chiamata ecco perché nel titolo c'è una risposta sentì questa chiamata di dare un sostegno, un aiuto a tanti bambini che in quel periodo storico dall'Istria insieme alle loro famiglie venivano portati in Italia come esuli perdendo tutto e quindi c'era un dramma di questi bambini e lui pensò di venire a Pesaro e di portarli a Pesaro perché lui era innamorato della sua città perché non dimentichiamoci che padre Damiani è un pesarese a tutti gli effetti di sangue puro e come tale ha voluto pensare non tanto di sviluppare qualche cosa a Trieste dove era lì in quel momento come cappellano militare ma ha pensato che ai bambini, il mare, qualche cosa che potesse far bene e venne a Pesaro pensando di realizzare quest'opera senza avere nulla l'unica sua forza fu affidarsi a Gesù Cristo perché aveva sentito questa vocazione e di lì è partito ma la grande forza di padre Damiani è stata quella di coinvolgere la comunità di Pesaro pensate a un progetto del mattone per padre Damiani quindi pesaresi che venivano qui a portare dei mattoni per costruire questa casa oppure le famiglie che la domenica e il sabato venivano a prendere i ragazzi ospiti qui di questa casa per fargli passare un fine settimana in famiglia ed era con noi giovani seminaristi e preti giovani così scherzava molto abbiamo visto veramente un cuore di padre ecco perché l'hanno chiamato padre Damiani poi di solito i preti si chiamano Don a lui l'hanno chiamato padre perché è stato veramente un padre per tantissimi bambini e ragazzi che lui ha educato e ha cresciuto e diciamo che questo suo atteggiamento paterno l'ha mantenuto per sempre e credo che anche queste opere che sono sorte in queste strutture che lui aveva costruito e realizzato cioè una scuola appunto per continuare l'opera educativa ai ragazzi e una casa di riposo per accompagnare gli anziani nell'ultimo tratto di vita siano penso una bellissima eredità che lui ci ha lasciato e che è fiorita proprio dalla sua radice l'evento deve servire per ricordarci di un grande pesarese, un grande sacerdote ma soprattutto per essere orgogliosi del nostro cuore di pesaresi capaci di accogliere ed ora ci occupiamo dell'ultimo evento speciale di respiro internazionale promosso in questo 2024 da Pesaro, capitale della cultura si chiama REMOT e in questo servizio andiamo a scoprire di cosa si tratta è l'ultimo dei cinque grandi eventi di Pesaro 2024 si chiama REMOT Pesaro il progetto che dal 3 al 16 ottobre verrà portato in città dal gruppo teatrale tedesco Rimini Protocol replicando un esperimento già testato in Italia a Milano e Cividale del Friuli e organizzato a Pesaro grazie ad Amat e allo special partner ad ECO si tratta di un esperimento sociale collettivo e inclusivo che unisce l'intelligenza artificiale alla collaborazione tra individui esplorando le vie della città e interrogandoci sul modo in cui le nostre decisioni personali vengano influenzate dalla tecnologia ricadendo poi sulla collettività con REMOT Pesaro si parte dal cimitero centrale con un gruppo di 40 persone che passeggia per la città per 110 minuti indossando un paio di cuffie e guidato da una voce registrata un'esperienza che vuole portare a interrogarsi su come vengano prese le decisioni collettive quando l'essere umano è guidato da un algoritmo Il progetto consiste in una camminata che verrà eseguita attraverso un'audioguida e ci sarà quindi un gruppo di 40 persone che inizierà questa camminata a partire dal cimitero di Pesaro per poi continuare verso il centro della città Il progetto riguarderà principalmente la prevedibilità dell'essere umano e quindi verranno eseguite delle scelte sia a livello individuale che a livello di gruppo E il mini protocol rappresenta uno appunto dei 45 progetti in termini di portata di evento probabilmente uno dei primi 4-5 assieme a Rosegardt, assieme a Abramovic, assieme a Sakamoto e che ha come trinomio di riferimento tecnologia, patrimonio e sostenibilità e quindi tra l'altro ci viene anche abbastanza facile spiegarlo in un anno in cui abbiamo specialmente in estate potenziato le visite ordinarie alla città attraverso il tour capitale, il tour Rossini che ovviamente sono tour nuovi dal punto di vista dei luoghi frequentabili ma molto classici e analogici dal punto di vista di quello che si può vedere invece qui appunto poggiando sulle possibilità della tecnica e della tecnologia in particolare anche dell'intelligenza artificiale e del digitale sono delle visite completamente inedite perché le emozioni e il background del visitatore di quello che va a incontrare rielaborato dall'intelligenza artificiale fornirà un'esperienza sempre nuova e condizionata da quello che poi è il modo del cittadino del visitatore di vivere i luoghi e quindi è un'esperienza unica dal suo punto di vista sicuramente mai proposta da noi grazie a questo collettivo tedesco Rebini Protocol che ha già lavorato su altre città chiaramente ma che si sperimenta per la prima volta su Pesero e quindi sarà un modo innovativo mediato dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale ma che parte però dalle nostre emozioni per vivere la capitale in maniera nuova e inedita Questi eventi sono importanti perché lanciano Pesero a livello nazionale ma anche a livello internazionale con progetti anche innovativi e l'idea di Pesero Capitale Italiano della Cultura è stata quella appunto di non puntare su progetti che potevano sembrare scontati, cioè classici cioè una classica mostra come si possono fare in tanti posti ma pensando anche ad iniziative culturali appunto nuove e che lanciassero Pesero sempre più a livello internazionale E volge al termine un altro progetto portato avanti da Amat e APA Hotels si conclude infatti Hotel Labyrinth il progetto che ha visto creare tre residenze artistiche con progetti sviluppati in altrettanti alberghi pesaresi dopo le residenze del musicista Paolo Benveniù all'Hotel Atlantic e della regista Laura Sicignano all'Hotel De Ben domenica 6 ottobre alle ore 18 all'Hotel Metropol verrà presentato il progetto artistico creato dal coreografo e danzatore Giuseppe Sagniu sabato 5 ottobre alle ore 18 al Teatro Rossini si terrà invece il concerto conclusivo dell'ottava edizione della Masterclass internazionale di canto lirico tenuta dal grande tenore José Carreras al Conservatorio Rossini sul palcoscenico i migliori allievi della Masterclass che si esibiranno alla presenza del maestro domenica 6 ottobre torna a Pesaro anche la 14esima edizione della camminata per il tuo cuore l'appuntamento gratuito non competitivo promosso dalla Fondazione per la lotta contro l'infarto professor Ernesto Sgarbi per sensibilizzare la cittadinanza verso corretti stili di vita per prevenire patologie cardiache si partirà alle ore 10 dalla Pala di Pomodoro per intraprendere un percorso di 6 km lungo la pista ciclopedonale a causa delle avverse condizioni meteo è stata rimandata la presentazione del nuovo brand L Mura dello studio Tonucci Design inizialmente previsto per la giornata odierna presentazione dunque rinviata alle ore 18 di martedì 8 ottobre in via Passeri 83 per conoscere il nuovo brand pesarese dedicato alla progettazione di oggetti di arredo di nuova concezione e vi segnaliamo anche che domenica 6 ottobre si terrà il mercato cittadino pesarese nell'area di San Decenzio l'appuntamento è stato programmato dal Comune per permettere agli ambulanti di recuperare la giornata di martedì 10 settembre cancellata in quanto concomitante con il primo giorno della Fiera di San Nicola e concludiamo il nostro telegiornale ricordandovi innanzitutto che fra poco alle 20.30 alla Vitri Frigo Arena ci sarà la prima partita casalinga stagionale della VL opposta a Vigevano partita che vi ricordiamo potrete vedere domani sera su Rossini TV alle ore 22 e subito dopo insieme a Canestro una novità nella nostra programmazione sportiva che si aggiunge invece alla conferma delle partite su Rossini TV della Pesaro Rugby società giallorossa che ha presentato il suo campionato di serie A e che partirà il prossimo 13 ottobre vediamo parte dall'inedita location del Codma OP di Fano la nuova stagione della Fiorini Pesaro Rugby il sodalizio giallorossa ha presentato la sua stagione 2024-2025 nella sede della cooperativa storica di Fano diretta da Gianni Tugnoli fra i nuovi sponsor della pallovale pesarese chi vuoi pronti ad una nuova formula della serie A che sarà divisa in quattro gironi un gruppo 1 meritocratico che raggruppa le migliori squadre della serie A dello scorso anno e un gruppo 2 composto da tre gironi suddivisi su base territoriale la squadra pesarese che ha terminato la scorsa stagione al nono posto militerà nel girone nord-est con le compagini venete è un campionato interessante che affrontiamo con molta speranza perché pensiamo che ci siano le condizioni per poter fare bene la squadra è abbastanza in continuità con quella delle scorse stagioni ma con innesti di giocatori provenienti da altri club che vengono inseriti in quei reparti dove abbiamo rilevato maggiori difficoltà dove ci sentiamo un po' più scoperti è una squadra in cui sono anche stati inseriti molti ragazzi delle nostre categorie giovanili per riuscire a dar profondità ai reparti e perché sono ragazzi di talento fortemente motivati alcuni dei quali vestiranno la maglia del Pesaro Rugby diverse volte in questa stagione siamo convinti il campionato inizierà il 13 ottobre alle 15.30 al Tecno World Rugby Park di Muraglia con Pesaro opposta a Casale al timone della 56esima stagione della Pesaro Rugby ci sarà il nuovo head coach argentino Marcello Martino noi quello che abbiamo messo a fuoco in questa preparazione in queste sei settimane le prime quattro settimane sono state soprattutto per lavoro fisico già che noi vogliamo una squadra che gioca con molto movimento far girare molto la palla quindi dobbiamo tenere molto fisicamente e poi anche iniziare a conoscere i ragazzi conoscere le loro persone soprattutto prima adesso abbiamo iniziato a giocare le partite che piano piano ci fanno vedere i ponti su cui dover lavorare ancora però ci mancano ancora due settimane per l'inizio del lavoro che adesso quando iniziamo queste due settimane già a fare più fuoco sul rugby e allora come vedete Rossini TV sempre più tv di riferimento per lo sport locale invece questa sera continuate a restare con noi perché innanzitutto tra pochissimo c'è un nuovo contenitore dedicato alla natura della cultura un nuovo contenuto di questo programma stasera parleremo della mostra di Abel Zeltman tra pochissimo e poi in prima serata le 21.20 avremo il piacere di fare una bella chiacchierata con il sindaco di Acqualagna Pierluigi Grassi nel nostro format amministrando domani invece vi aspetto alle 7.20 in diretta mi raccomando sul canale 80 sulla nostra app sul nostro sito internet e anche sulla nostra pagina facebook con la nostra rassegna stampa mentre domani allora come vi avevo appena anticipato partirà la nuova stagione di Insieme a Canestro quest'anno vi aspettiamo in diretta alle ore 21 perché poi subito dopo trasmetteremo la partita quella appunto che c'è questa sera potrete rivedere comodamente seduti sul vostro divano domani giovedì alle ore 22 grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata